edizione straordinaria cari amiche cari amici edizione straordinaria buonasera vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione ma mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube edizione straordinaria da che cosa partiamo partiamo da la notizia data da sky e da fabrizio romano cito sempre la fonte di un interessamento anzi ha sottoposto addirittura un'offerta e ci sono anche in particolare lo stipendio lo pagherebbero loro cioè il como per terracciano como interessato a terracciano ha chiesto terracciano e ora vedremo come si svilupperà dice nel suo solito ovviamente inglese fabrizio romano negoziazione che stanno evolvendosi quindi i tifosi del milan non soffrono se andasse via terracciano che secondo me anche perché non nella sua posizione preferito preferita non ha mai regalato così l'impressione di un grande giocatore da milan c'è da dire che se poi tu dai via pobega italiano dai via terracciano italiano poi qualcosa devi andare anche a prendere perché altrimenti ci sono dei problemi quindi terracciano sembra che sia il como interessato pagherebbe addirittura il il l'ingaggio poi ci sarebbe un diritto di riscatto e quindi vediamo se questa trattativa andrà in porto quindi questo è innanzitutto la prima notizia della serata la notizia in questi in queste ore gira molto il discorso sull'affare calulù non è molto chiaro dal milan trapera che il giocatore stia per accettare l'offerta della juventus se uno parla con la juventus gli dicono noi domani cioè martedì attendiamo una attendiamo una risposta e lo diamo come deadline siamo qua in attesa e decidiamo un attimo come si svilupperà la cosa la juventus aspetta il milan aspetta calulù che cosa decide e questa è la situazione direi calda per quello che riguarda le uscite il milan tiene sempre a sottolineare che l'allenatore è stato accontentato e il milan e la squadra ha avuto i rinforzi che dovevano colmare delle lacune quindi è arrivato l'obiettivo e ribadisce ancora una volta che manu conè arriverà se arriverà anche perché c'è la roma come concorrente arriverà se andrà via un giocatore e in questo momento i benasser gli adli i pobega i centrocampisti di questi nessuno sembra voglia andarsene o meglio pobega in trattative adli sembra che non voglia andarsene calunio un punto interrogativo benasser un punto interrogativo e mancano dieci giorni ormai alla fine del mercato quindi bisogna capire l'evoluzione di questa situazione manu conè se andrà via un giocatore oggi si è fatto la voce il nome di vos però è un fosse uno del un giocatore del 2005 potrebbe interessare qualcuno dice sì ma per milan futuro però milan futuro che tiri fuori 10 milioni per vos vos beh io preferirei aspettare ancora un attimo e tirarne fuori 20 per manu conè con tutto rispetto per il milan futuro magari invece è un giocatore sul quale investire e permettere al milan futuro di diciamo coltivare e diciamo far crescere un giocatore che poi utile anche per la prima squadra da sottolineare la vittoria dell'atalanta con doppietta di brescianini con qualche ovviamente rimpianto dei tifosi del milan e quando poi segna un giocatore che era passato per il milan e brescianini ceduto gratis ma con il 50 per cento sulla rivendita e questo ci ha portato a casa circa 6 milioni e mezzo gasperini veramente bravo in pochi giorni l'ha messo in condizioni doppietta di reteghi doppietta di brescianini e quindi complimenti alla solita atalanta tetragona a ogni assenza oggi è andata con una con tantissimi giocatori con tantissimi giocatori che arrivano dal vivaio per proprio per mancanza di materiale umano e lo stesso è riuscito a battere bene il lecce quindi complimenti ma il tema che volevo trattare oggi in questo video perché poi per quello che riguarda altre notizie non mi sembra che ce ne siano per quello che riguarda il milan uscita entrata se non questa notizia di terracciano ecco voi ne ho accennato oggi mi interessa anche la vostra opinione la vostra opinione camarda ormai io sono sempre stato nella linea calma prudenza e presto calma prudenza e presto continuo con questa linea però avendo visto uno jovic che la prima punta da solo non è il suo ruolo allora spero che camarda non che domenica entri in campo dovesse uscire morata nostro mica esagerando non sono impazzito però mi auguro che venga presa in con la seria considerazione di tenerlo ovviamente come importante giocatore del milan futuro ma incominciare a valutare qualche allenamento in più qualche presenza in più anche in panchina per questo giocatore perché è un giocatore che può soddisfare può soddisfare le esigenze tecnico tattiche di fonseca può essere il giocatore che nel momento importante mi faccia mi muova l'azione in quella in una maniera tale che permetta che permetta poi al milan di avere questo press in questa manovra alta che piace a fonseca serve un giocatore che corra un giocatore che pressa un giocatore che stia bene fisicamente bello mi dicevano che è cresciuto anche come massa quindi una massa più importante ha realizzato in gol nella serie cino adesso lo abbiamo dato per scontato ma avevamo tanti dubbi che in serie c un 2008 contro le difese perché adesso le difese del novare dell'ecco o meglio quella del novara che ha preso un gol l'altro e su rigore e erano quelle di cui parlavamo prima quando dicevamo di un di un camarda che avrebbe fatto fatica con le con le squadre in serie c quindi è sempre la stessa cosa quindi il il popolo rosso nero vorrebbe visto che ibra è stato chiaro non prendiamo nessuno perché deve crescere camarda non ha parlato di camarda ma ha fatto capire che quelle del milan futuro e soprattutto l'attaccante non ne vogliono prendere uno per non diciamo colmare questa per non occupare ecco questa questa casella e tenerla sempre libera per francesco camarda e allora attenzione giunti a questo punto vediamo come sarà come sarà il futuro ma io mi incomincia a venire la cuolina in bocca per camarda la davanti non è bello perché vuol dire che anch'io cado nella mettiamo camarda perché un fenomeno un fenomeno cosa che non ho mai seguito però indubbiamente visto che jovic può giocare solo in un milan o nel finale con tanti attaccanti o con i due attaccanti ma non può essere l'attaccante la davanti al posto di morata se morata è fuori oppure entra al posto di morata durante la partita perché non è il suo ruolo non sa rendersi utile non pressa non non ha palloni lui non li va a cercare non è un attaccante che prende colpisce e finisce l'azione ha bisogno di tanti palloni ha bisogno di lavorare palloni e poi attenzione quando poi li lavora non sbaglia mai però anche domenica ha avuto solo un colpo di testa un po un'azione un po favorevole e altrimenti non è arrivato proprio assolutamente nulla e oltretutto ripeto non è se non avendo le caratteristiche del giocatore che pressa è chiaro che l'azione che vuole fonseca non si riesce a fare quindi non si riesce a effettuare non si riesce a svolgere quindi ecco perché cominciamo a prendere in esame che questo camarda che ha stupito quando aveva cinque anni otto anni dieci anni dodici anni quindici anni ora ne ha 16 e continuo a stupire proviamo il milan ha avuto coraggio con donna rumma e altro ruolo molto delicato perché l'ha ritenuto maturo vediamo se ci sarà l'opportunità senza oltretutto creare problemi a milan futuro di incominciare magari a entrare in ordine di idee di inserirlo con una certa continuità negli lanamenti e magari ripeto con qualche panchina in più se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pelegatti attivate la campanella e scaricate i link in descrizione ciao